Ben trovati con il TG Live, ora andiamo in Gallura, un'area sportiva con campi da tennis e da calcetto, spazi attrezzati all'aperto e locali per l'attività ludico-ricreative. Logosanto ottiene 1.350.000 euro dalla finanziaria regionale per progetti di riqualificazione e ampliamento del parco sportivo. Stefania Costa. Nuovi campi sportivi da tennis e da calcetto, la ristrutturazione e riconversione del bocciodromo. Il comune di Logosanto punta allo sport e allo sviluppo di aree attrezzate e spazi comuni a beneficio della comunità e dei turisti. Verranno impegnati così i finanziamenti ottenuti nell'ambito della legge regionale di stabilità che consentiranno all'amministrazione comunale gallurese di completare l'area sportiva di via Cristoforo Colombo. Nello specifico il contributo da 1.350.000 euro suddiviso in tre annualità da 450.000 euro e frutto di una deliberazione inserita nella finanziaria 2023 consentirà di realizzare un nuovo campo da tennis in prosecuzione dell'esistente, un campo da calcetto e la ristrutturazione del bocciodromo. La zona di via Colombo, commenta Agostino Piredda, sindaco di Logosanto, sarà il centro nevragico anche dello sport praticato all'aperto. L'obiettivo del comune infatti non si arresta ai lavori che verranno realizzati grazie ai fondi regionali, ma punta alla realizzazione di percorsi e aree attrezzate dedicate all'attività sportive all'aperto che verranno sviluppati nell'ambito della programmazione territoriale. Si tratta di un grande risultato politico, commenta ancora Piredda, che ci permette di mettere a disposizione nuovi spazi moderni e funzionali per lo sviluppo delle attività sportive aperte a tutte le fasce d'età e per quelle ludico-recreative. Un laboratorio teatrale per raccontare le proprie esperienze e far conoscere meglio una patologia come la fibrosi cistica. L'organizzano a Sassari la Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna, la Compagnia La Botte e il Cilindro e l'Associazione Materia Grigia in servizio. Raccontare le proprie esperienze, ma anche far conoscere meglio una patologia come la fibrosi cistica, che condiziona il vivere quotidiano di pazienti e familiari. È questo lo scopo del laboratorio di animazione teatrale promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna, in collaborazione con la Compagnia Sassarese La Botte e il Cilindro e l'Associazione Materia Grigia negli spazi del Teatro Astra, che è stato presentato a Sassari e che si protrarrà fino al gennaio 2024. Il laboratorio nasce nell'ambito del progetto della Lifce Sardegna, leghiamo insieme fatti concreti, saturiamoci di vita positivamente, e vuole essere uno spazio creativo rivolto non soltanto ai pazienti affetti da fibrosi cistica, ma anche ai loro familiari, ai cargivers, agli operatori sanitari, anche ai simpatizzanti e amici dell'associazione. Il laboratorio è finanziato dalla Fondazione di Sardegna, che affianca da anni il centro di supporto per la cura della fibrosi cistica di Alghero. Credo che sia uno strumento utile perché è un momento di incontro, di confronto al di fuori dell'ospedale, dove il concetto di cura spesso è strettamente legato alla cura medica della malattia. Il laboratorio teatrale ha due obiettivi. Da una parte quello di richiamare l'attenzione della persona su tutte le proprie capacità espressive. Come secondo obiettivo però, dando questa libertà di esprimersi, permette di comunicare ad altri novità, sentimenti, relazioni, sensazioni, e anche se è il caso e quando è il caso, come si vive un turbamento, una malattia. La fibrosi cistica è una malattia genetica che colpisce il pancreas, il fegato e i polmoni e conduce a una progressiva perdita della funzione polmonare fino a impedire il respiro. La sua frequenza è di un caso ogni 2.500 nati vivi. Veniamo ora allo sport, giornata importante per la Torres che oggi compie 120 anni di storia. Una celebrazione in tono minore però in attesa della decisiva gara di domenica contro la Fermana che vale la salvezza in Serie C. In casa Olbia ai nostri microfoni ha parlato il direttore sportivo Tommaso Tatti tra presente e futuro del club galurese Francesco Aresu. Buon compleanno Torres. Oggi, mercoledì 19 aprile 2023, la società Rosso Blu compie 120 anni. Una celebrazione attesa per tutta una stagione che però passa necessariamente in secondo piano dato che i sassaresi non sono ancora certi della permanenza in Serie C. La conferma nell'ultimo livello del calcio professionistico italiano passa necessariamente dalla sfida di domenica al Van Nisanna contro la Fermana. A Scotto e compagni basterà un punto in caso di vittoria dell'Alessandria contro il Cesena o qualora i piemontesi non dovessero riuscire a superare i bianconeri di Toscana al momento secondi in classifica, potrebbe bastare anche la sconfitta. Tutti i calcoli che in casa Torres lasceranno spazio al campo. Il destino dei rosso-blu è nelle proprie mani e da quando è tornato greco si è rivista compattezza e serenità contro i pareggi e una vittoria in quattro delicatissime gare. Una settimana caldissima dunque a Sassari. In casa Olbia invece la salvezza è già stata certificata dalla matematica. L'ultima gara con la Lucchese è una mera formalità ma i bianchi vogliono chiudere bene la stagione e perché no stare davanti ai cugini in classifica. Ma è ancora presto per parlare di futuro, come dichiarato da Tommaso Tatti, direttore sportivo dei Galoresi, ai nostri microfoni. Ma dico che è ancora presto perché poi alla fine manca ancora una partita a finire il campionato ci sono da valutare tante situazioni, quindi sicuramente qualche altro ragazzo giocherà domenica quindi ci sono delle valutazioni ancora da definire. Quindi direi che è ancora presto per parlare di futuro. È normale che siamo sicuramente attenti, abbiamo la possibilità anche quest'anno, magari anzi quest'anno ancora di più perché l'anno scorso poi abbiamo fatto i play-off, abbiamo avuto altre due settimane in meno per programmare, però quest'anno abbiamo anche la possibilità di essere un pochettino tra virgolette più tranquilli e di ponderare tutte le scelte. Prima di salutarvi vi facciamo sapere come ha riportato l'ANSA che oggi c'è stato un nuovo falso allarme per il sub disperso nel golfo dell'Asinara perché c'è stato un avvistamento di un giubbino salvagente che ha fatto sperare nel ritrovamento di Davide Calvia. Il sub sassarese di 38 anni disperso da mercoledì scorso, una segnalazione alla Guardia Costiera ha spostato la macchina delle ricerche nel tratto di mare tra l'Isola Piana e l'Asinara, la zona è stata perlustrata con motovedette, sommotatori ed elicottero. È stato ritrovato solo un giubbino di salvataggio che potrebbe essere stato perso da qualsiasi imbarcazione, nulla prova che possa essere legato al naufragio della settimana scorsa. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del Tg Live e vi invitiamo a seguire le prossime sempre qui sul canale 88. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di salata. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di salata.